E veniamo adesso a dedicare questo articolo all'allenatore del Milan Stefano Pioli che dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l'Atalanta del Milan è veramente con le spalle contro il muro. Ovviamente la Coppa Italia era l'unico vero traguarda che ancora poteva salvare il tecnico Pioli, che da Pioli on fire è diventato in breve tempo nei social Pioli out. Sembra infatti molto improbabile che il Milan conquisti la Coppa UEFA, ancora più improbabile la conquista dello scudetto dato che davanti ai rossoneri ci sono Inter e Juventus che sembrano oggettivamente più attrezzate allo scopo. Cardinale negli auguri di nuovo anno aveva fatto capire chiaramente che si aspettava il raggiungimento di almeno un obiettivo che ad oggi quindi sarà molto difficile da raggiungere. Non solo, nonostante la squadra sembri in ripresa, ha palesato molte difficoltà sia dal punto di vista del gioco sia dal punto di vista degli infortuni, problemi che con difficoltà potranno essere risolti con il mercato di gennaio. Oltretutto il Milan dopo Gabbia non sembra intenzionato a fare altri acquisti. Secondo gli ultimi spifferi di mercato sarebbe già pronto il sostituto di Pioli, la cui permanenza nella panchina del Milan sembra che sia ormai veramente a tempo ed ad oggi sembra che il sostituto naturale sia proprio Antonio Conte. E veniamo adesso a dedicare questo articolo all'allenatore del Milan Stefano Pioli che dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l'Atalanta del Milan è veramente con le spalle contro il muro. Ovviamente la Coppa Italia era l'unico vero traguarda che ancora poteva salvare il tecnico Pioli, che da Pioli on fire è diventato in breve tempo nei social Pioli out. Sembra infatti molto improbabile che il Milan conquisti la Coppa UEFA, ancora più improbabile la conquista dello scudetto dato che davanti ai rossoneri ci sono Inter e Juventus che sembrano oggettivamente più attrezzate allo scopo. Cardinale negli auguri di nuovo anno, aveva fatto capire chiaramente che si aspettava il raggiungimento di almeno un obiettivo che ad oggi quindi sarà molto difficile da raggiungere. Non solo, nonostante la squadra sembri in ripresa, ha palesato molte difficoltà sia dal punto di vista del gioco sia dal punto di vista degli infortuni, problemi che con difficoltà potranno essere risolti con il mercato di gennaio. Oltretutto il Milan dopo Gabbia non sembra intenzionato a fare altri acquisti. Secondo gli ultimi spifferi di mercato sarebbe già pronto il sostituto di Pioli, la cui permanenza nella panchina del Milan sembra che sia ormai veramente a tempo ed ad oggi sembra che il sostituto naturale sia proprio Antonio Conte.